Ciao ragazzi, ben ritrovati in Andrenic e bentornati su Bakugan Campioni di Vestroia. La scorsa volta ci siamo lasciati in questo punto del gioco, nonostante io abbia poi comunque fatto qualche quest secondaria, e abbiamo scoperto, oltre a questa trivella gigante, un Bakugan enorme, o meglio due Bakugan enormi che stanno combattendo. Non posso vedere chi sono, perciò andiamo avanti con la storia e cerchiamo di scoprire che diavolo sta succedendo. Oltre ad avere dei regionali da affrontare, abbiamo pericolo alla parasol. Quindi dovrei cercare informazioni su questi super computer? Sì, yes! Vestronia, il pianeta dei Bakugan si è fuso con il pianeta Terra, rimanendo intrappolato nello stesso spazio fisico. I Bakugan appaiono casualmente nel nostro mondo, man mano che entrano nella nostra dimensione. Trivellare la Terra e scatenare terremoti fa in modo che i Bakugan entrino nella nostra dimensione molto più velocemente di quanto farebbero normalmente. Con questa tecnica possiamo prendere tutti i Bakugan che ci servono per il progetto. Ah, ok, perfetto. Io sto ancora aspettando Darkus Dragonoid, però non diciamolo troppo in giro. Se potessi parlare con gli altri terminali, magari potrei scoprire... Poi terminali... Termine anni 50, appena furono inventati i primi computer. Bene, a questo punto sì, devo per forza andare qua. Comunque sia, stiamo conoscendo sempre più informazioni su come i Bakugan arrivano da noi. In quale maniera, cosa... Oh, una valigetta? No, qua altri terminali? Una cartellina? No, soldi, ma perché mi dovete infrangere i sogni in questa maniera? Terminale 3 Quando i Bakugan combattono, la cupola riceve la loro energia e la invia a Vestronia. Poi i Bakugan ricevono l'energia attraverso la matrice di occultamento. Si tratta di un ciclo di energia mai visto sulla Terra. Infatti. La relazione simbiotica è rivoluzionaria e il livello di energia trasferita è incredibile. Se potessimo scoprire la fonte di energia che alimenta la matrice di occultamento, potremmo attingere anche a quella. E fregate. Ma questo è un Maximus? Cavolo. Ma quello era un Bakugan Maximus? Praticamente sarebbe quasi la forma finale di rafforzamento dei Bakugan. Ah, ecco, qua già abbiamo una visuale migliore. Mi sembra un Aquos Dragonoid. Uno dei due Bakugan. Ok, eccoci qua. A Terminale 4 ho perso il secondo. Al sito di scavo principale abbiamo scavato molto in profondità e abbiamo visto che qualcosa è uscito. Stiamo trovando foglie di colori strani e formazioni rocciose di natura aliena. Sì, ma cosa è uscito? Ma perché non posso passare lì? Sposta quelle sedie! Boh, raga, un Terminale me lo sono perso. Anche se in realtà io l'avrei visto sotto. Ho controllato tutto. Scienziato Popo. È la giornata in cui si portano i figli al lavoro? Sì. Ah, devo premere A da qualche parte qui. Ah, ecco. Ah, Terminale 2. Devo controllare tutti... Ah, Terminale 2. Tutti quanti devo farli, quindi. Va bene. Terminale in anticipo l'ibernazione. Sembra avere effetto sui Bakugan, rendendoli più forti e meno controllabili. Pensiamo che la ragione sia che sono ancora molto vicine a Vestronia e hanno ancora la sua energia dentro di loro. Non è chiaro quali effetti a lungo termine potrebbero avere Bakugan o Vestronia come conseguenza di tutto questo. Ma poco fa ci ho parlato. Scienziato Kuro. Ma perché? Vabbè, non importa. È senza costi per noi. I Bakugan amano combattere comunque. È una scoperta straordinaria. Vogliono prendere l'energia della cupola. Sarebbe un disastro per Vestronia e tutti i Bakugan. Davvero? Sì. Smetteremo di ricevere l'energia da Vestronia tramite la matrice di occultamento. E chissà quanto potremmo sopravvivere senza. Non va bene. Dobbiamo mettere fine a tutto questo. E cosa ci fai lì? Scappo? Sei una spia per... Ah, che dialogo di prima. No, non sono una spia però. Ad ogni modo la cosa più divertente è che stiamo scoprendo se è la lore finalmente. Il motivo per quale i Bakugan esistono. La signorina però lei mi attira i core tutti quanti vicino a sé. Io che devo fa? Comunque sì, i miei Bakugan sono abbastanza forti nonostante ricevano delle megabotte. Proprio di prepotenza. Ma li ho potenziati e ho comprato un bel po' di nuovi attacchi. Proprio attacchi hyper. Quindi fatti apposta per loro. Sono molto soddisfatto dei miei acquisti. Ovviamente acquisti con la moneta di gioco. Ci mancherebbe altro che ci spende soldi pure per questo gioco, no? Anche perché mi sembra che non si possano fare acquisti con moneta vera. Quindi meglio così. Anche Pegatrix sta per raggiungere il livello Maximus. Io proprio sono contentissimo. Almeno abbiamo un gruppo bello potente. Non andare oltre, non c'è niente lì per te. Però vi levate comunque. Oh! Sì, un... Da solo. Mi hai preso un... Dico ecco, ma pure qua il drift è arrivato. Sul controller nuovo, no. Una cupola con dentro dei Bakugan. Cosa gli stanno facendo? Sembra che quella macchina rubi energia dalla cupola. Manda all'aria i piani della para... Il piano della parasol. Posso parlare prima? Ecco, quelle... Ma c'era l'interruttore. Ah, forse per fregarti. In modo da non... Aspetta. Voglio provare a fare una cosa. E se io potessi premere A senza avvicinarmi troppo? Potrei risolvere la questione senza perdere tempo? Facciamo la speedrun? Mi sa che l'ho... L'ho fatto ma non va. Eh, sì, sì. No, l'ho premuto A ma non va. Non va finché non risolvi questa questione. È come quelle cose, come quegli oggetti luminosi sui quali premi A ma non succede nulla perché prima devi parlare con un altro personaggio per farti attivare quella missione e poi allora puoi risolverla. Va bene, non fa nulla. Sarebbe anche giusto in effetti. Abbiamo un agente, Irko, che è della parasol, non c'è il capo della parasol, nonostante sia un progetto piuttosto importante direi. Signor Mendoza, ah, il padre di... del bimbo lì. Stiamo ricevendo con successo energia dalla cupola. C'è abbastanza elettricità per alimentare la città per settimane. Papà, i Bakugan hanno bisogno di quell'energia. E cosa? Chi ne ha fatto entrare? Miguel, Link, cosa ci fate qui? Miguel ha ragione. Quello che state facendo è sbagliato. Vestronia ha bisogno di quell'energia per vivere e i Bakugan hanno bisogno di Vestronia. Se il ciclo di energia con Vestronia viene interrotto, Vestronia e i Bakugan potrebbero smettere di esistere. Siamo in simbiosi e dipendiamo gli uni dall'altra. Cosa? Non ne avevo idea. Dici sul serio. Ma, porca miseria, ma state facendo degli esperimenti. Vedete che i Bakugan attingono energia da Vestronia. Ma non vi passa per la mente che forse... Dico forse... Quell'energia serve ai Bakugan e viceversa, no? Non fate gli studi? Che importa se è vero o no. Il tuo lavoro è mettere a punto il trasferimento di energia. Non mettere in discussione quello che facciamo. Anche questo è vero. Ma questo non è giusto. Miguel. Non posso prendere parte a tutto questo. Il Bakugan stesso ci sta dicendo che ha sbagliato. Dobbiamo spegnere la macchina e liberare quei Bakugan. Ne ha avuto abbastanza, non starmi tra i piedi. Ma perché devo combatterci io? Ma ce l'hai con lui? Prenditela con lui. Io devo trovare chi ha scritto la storia e stringergli la mano. O stringerle, poi. Ovviamente. Dipende. Vabbè, ecco. Questo c'ha il coso che c'ha l'energia perpetua dentro di sé. A parte che corre. Senza motivo. Corre come un dannato. Guarda, adesso fa il pezzente lui e mi viene addosso. Guardalo, 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 guardalo. Per un soffio l'ha evitato. Però ragazzi, anche questo non è che sia di una qualche difficoltà particolare. Attenzione. Voglio dire, gli avversari, ok, diventano sempre più forti. Hanno Bakugan più forti. Ovviamente i Bakugan sono con le tecniche più forti. Perché se no, eh eh, non può essere. Però, attacchi di squadra e li massacri. Non hanno alcuna possibilità. Sì, riescono anche a mandarti KO con un paio di Bakugan. Proprio nelle peggiori delle situazioni. Per il momento me ne hanno mandati massimo KO 1. da quando c'è questa difficoltà più elevata. Però, boh, nulla di troppo strano alla fine. Comunque sì, è finita anche questa. Eccoli che salgono di livello anche loro. Che goduria, che goduria! Mendoza, sei licenziato. Stupidi ragazzini, non avete ottenuto nulla. È solo un piccolo contrattempo per il nostro piano. Ho sentito abbastanza. Questo è un luogo dedicato alla scienza. Devi andartene. Ah, per un momento ha slittato. Dobbiamo spegnere quella macchina e prendere Bakugan. 900 B-Coin, mi piace. Esplosione House Maximus. Uh, quando raggiungere il livello. Tra l'altro, alcuni attacchi richiedono un costo di energia. Non alcuni, tutti. E nonostante io sia Maximus, alcuni non posso usarli. Ah, aspetta. Devo uscire e rientrare, sicuramente. Ho premuto A prima di poter... Prima di affrontare e quindi ricevere la missione per distruggere la macchina. Premendoci A, semplicemente. Questo si prenderà il resto della giornata, va bene. È finita? Sì. Sembra che ora non ci sarà più problemi. Mi sento così debole. Venite con noi. Link ha un legame speciale con i Bakugan. Usciamo da qui. Penso che andrò in ferie per il resto della giornata. Sì, va bene. Abbiamo capito. Me l'hai detto tre volte. Basta. La cosa che ora però vorrei sapere io, no? Perché, ovviamente, uno si fa delle domande. E c'è una cosa molto interessante qui che purtroppo non ci è dato sapere. Qui, cosa c'è che luccica? Come ci posso entrare qui? È chiaro che c'è qualcosa da fare perché qui c'è qualcosa che luccica. Se riesco... Eccolo. Quindi cosa devo fare? Non si sa. Qui, luccica, luccica, ma... Non lo so. Comunque sì, andiamo a nascondiglio. Magari ci si torna in un secondo momento? Possibile. Siamo tornati al rifugio. Ma il Bakugan era Axillator. Grazie per averci salvato. Sai, questa è la ragione per cui abbiamo scelto i bambini come i nostri compagni su questo pianeta. I vostri cuori puri e la vostra speranza... Ci infondono speranza. Spero che Vestania sarà sicuro qui. Agli adulti serve la tecnologia per manipolarci. Ci hanno ingannati. E hanno usato il nostro desiderio di combattere per i loro scopi egoistici. A me piace avere degli amici e mi diverto molto a combattere. Beh, anche noi vorremmo essere i tuoi amici. Ok. Dovremmo andare a parare con mio padre. Forse ci può aiutare a fermare la parcel una volta per tutte. Anche questi qui sono Maximus. Il che è perfetto. Ragazzi, mettiamo un po' Axillator. Vai. Mi piace. Tra l'altro gli ho anche messo qualche altro attacco diverso che era più indicato, eh. Miguel, ti avevo detto di non entrare là dentro. Cosa pensavi di fare? Eh, non lo farò più. Va bene mamma, però sai, devo proteggere Bakugan. È vero, anche se non avrebbero dovuto mettersi in pericolo a quel modo, avevano ragione. Non avevo capito che la relazione che hanno con Vestrone dipende da quell'energia. Mi avevano detto altre cose. Ma tu, sei tu lo scienziato, tu devi controllare. Vedi che i dati non riportano, no? Non posso sopportare il pensiero di cosa sarebbe successo se non foste arrivati con i vostri Bakugan. Il mio capo, il CEO della Parasol, deve essere informato di tutto questo. Veramente è lui che incarica questi esperimenti, ma... La prossima settimana? Non abbiamo tutto questo tempo, deve essere informato ora. Mi spiace, Miguel, ma funzionano così le cose. Non posso irrompere nel suo ufficio e chiedere di fermarsi. Bisogna eseguire una procedura per essere ricevuti. Link, questi erano ancora nel mio camice da laboratorio. Per favore, fa sapere a quei Bakugan quanto mi dispiace. Farò ciò che posso per sistemare le cose. È tutto ok, apprezziamo che ci abbia aiutato a fermarli quando l'hai scoperto. Sei l'amico dei Bakugan. Grazie. Divertitevi a combattere, sì, a prenderci a pugni, schiaffi. Anche questo, Maximus. Però è un peccato che... Darkus, Dragonoid, niente, eh. Non dico che deve arrivarmi al livello Maximus, ma... Ehi. Che dipende dalla rengì quello che si riceve. A caso, praticamente. Può essere pure. Per non avvantaggiare nessuno. E scogitiamo quindi un piano. Quindi quando torneremo a combattere? Presto. Prima dobbiamo scoprire cosa fare con la Parasol. Non penso che potremo aspettare fino alla prossima settimana. Mamma c'è detto di non andare alla centrale. Eppure guarda cosa è successo. Quindi non possiamo aspettare. Beh, ci serve un piano, però. Il piano è fare eruzione. Prendiamo la metro per il centro, ma così? Va bene. Ragazzi, per questo episodio lo termino qui. Nel prossimo andremo a fare eruzione, come dei banditi, nell'ufficio del capo della Parasol. Gli punteremo i nostri Bakugan alla tempia e gli diremo o fermi tutto o te li scagliamo contro. E lui dirà sicurezza e noi verremo picchiati male dalla sicurezza. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video. Questa serie adesso sta iniziando a entrare nel vivo, nella parte più interessante. E poi arriveremo alla fine. Non manca molto. Non deve mancare molto per la fine. All'ogni modo, io vi ricordo come sempre che in descrizione c'è il link per Instagram. Se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye.